Mi date un ok generale? Sì, quando volete. Tutto a questo generale. Allora, un consiglio di lavoro straordinario, come sempre, non è necessario quando c'è una variazione di bilancio. Qual è la vostra visione? La nostra visione è che i bilanci certificati della regione toscana fanno acqua da tutte le parti. Hanno fatto i conti senza l'oste e siamo in difficoltà perché non è stato quantificato quanto le aziende farmaceutiche dovrebbero rimborsare alla regione toscana. Quindi siamo sotto dei 115 milioni e la regione toscana non trova di meglio che svincolare fondi che erano destinati ai più deboli. Questa è una cosa inaccettabile. Di quali progetti stiamo parlando? Quali sono quelli che vi preoccupano di più? E sono effettivamente azzerati, nel senso che non andranno avanti? Ci sono dei fondi che sono vincolati per alcuni progetti specifici che riguardano la non autosufficienza, che riguardano i disabili e la vita indipendente, che riguardano le liste d'attesa, che riguardano il rischio clinico, che riguardano i detenuti e l'assistenza sanitaria in carcere, che riguardano le comunità terapeutiche e i servizi per i tossicodipendenti. Direi che sono tutti progetti finalizzati che vengono svincolati. Quei soldi vanno a ripianare un buco di bilancio. Questa è una cosa gravissima, soprattutto per il fatto che vengono ad essere penalizzati per l'ennesima volta i più deboli, le fasce più in povertà della popolazione. Non è accettabile, ripeto. Questa manovra evita il commissariamento? Stanno cercando di evitare il finanziamento perché se per il 31 maggio non approvano questa correzione al bilancio c'è un piano di rientro. Di fatto siamo in un piano di rientro interno. Perché si è parlato di atmosfera surreale questa mattina? L'atmosfera è surreale perché di solito la Giunta presenta la propria proposta di legge. Non la fa presentare in una situazione come questa, così importante, così seria, semplicemente al Presidente della prima Commissione. Quindi in questo senso direi che era abbastanza imbarazzata la Giunta. Evidentemente si aspetta che il Consiglio di nuovo faccia un'operazione di alza mano, di passacarte. Volevo capire, tanto per essere chiari, il messaggio per esempio a quelli dell'Associazione Vita Indipendente è che voi fino a che Renzi non fa il decreto non avrete più soldi? Il messaggio è che i progetti probabilmente continueranno ad essere erogati attraverso i fondi indistinti che ci sono nell'ambito del servizio sanitario. Ma è un modo, come dire, non rigidamente adattato a quello che il sistema giuridico suggerisce per fare bilanci. Non si può navigare a vista. E giustamente i disabili, i non autosufficienti, tutti gli anni sono in difficoltà perché non sanno se questi soldi saranno erogati o no. Addirittura sembrerebbe che non siano stati erogati in passato soldi nel 2012, nel 2013, nel 2014. Ma chi è che vigila sui bilanci delle aziende? Dovrebbe vigilare la Giunta. Ci troviamo oggi a vedere svincolare fondi che dovevano essere già stati spesi. Quindi delle due, l'una, o le aziende non stanno lavorando in maniera adeguata, oppure la Giunta non sta facendo il suo lavoro di verifica e controllo. Quindi siamo davvero in una situazione di anarchia e di alchimia della finanza, della una finanza che diventa sempre più creativa in questa regione. Grazie.